Un problema che certamente c'è uno scontro sui dati fondamentali della convivenza civile. C'è il dato di una città che certamente ormai ha creato un'economia parallela fatta di abusivismo, di emarginazione rispetto ai canali legali dello scambio, eccetera. E questo mi fa fare ancora un'ultima domanda sulla città, poi passeremo ai temi di ampio respiro, come si dice. Insomma, questa città non vive una condizione economica attuale accettabile, nel senso che sono tutti molto allarmati, l'idea è che esiste un commercio legale, non abusivo, che ormai è ai limiti del dissesto e vi è una condizione complessivamente produttiva che va impoverendosi. All'interno di questo si colloca certamente il dato ST Microelectronics. È stato un simbolo dello sviluppo di quest'area, l'Etna Valley, tutte quelle cose che sappiamo. Insomma, in maniera silente, senza che la città se ne accorgesse, se non la città direttamente coinvolta nel tema ST, in maniera silente la ST abbandona Catania, diciamocelo con grande franchezza. Ci erano stati tutti i segnali già nel non utilizzo di quello straordinario esempio di architettura industriale che era stato il modulo 6. Insomma, su questo fronte, lei che in qualche modo vive la città, ma vive anche una dimensione nazionale, che tipo di prospettive legge in questo quadro? Beh, io sono assolutamente consapevole di che cosa è stata e quanto è stata importante la ST Microelectronics a Catania. Non soltanto in termini quantitativi, 4.000 persone impiegate, 4.500 addirittura nell'azienda, altrettante nell'indotto. E insieme con questo una sorta di simbolo, la capacità di attrarre anche altri investimenti. Ricordo quando a Catania stava arrivando la Nokia, quando stava arrivando l'IBM, quando nasceva quel sogno che era l'Etna Valli. Oggi siamo in una condizione assolutamente preoccupante. Non perché la ST Smobility domani mattina chiude e abbassa la serranda e mette 4.000 persone, ma perché non realizzandosi il modulo 6, che era quello in cui si sarebbero fatte le fette di silicio da 12 pollici, quindi sarebbe stato lo stabilimento più avanzato in Europa. E quindi, come dire, per 20-25 anni noi eravamo a posto. Non realizzandosi il modulo 6, Catania perde il suo ruolo di punta di diamante. Pasquale Pistorio, tra l'altro, non è più il capo operativo, c'è un management di primo ordine, ma certo nei confronti della città non c'è la stessa attenzione e partecipazione affettiva che c'era allora. Il rischio è quindi che ci sia un declino, un declino più o meno lento. Ecco perché credo che dobbiamo mobilitarci tutti. Sì, siamo nelle regole del mercato globale, quindi non è che la deputazione catanese può forzare l'azienda più di tanto, però sono possibili anche soluzioni intermedie. Il modulo 6 può essere utilizzato, questa è un'idea che sento dire, per sviluppare nell'ambito dell'St delle attività nuove, fuori dal campo della componentistica microelettronica e nel campo, per esempio, dell'energia fotovoltaica, dove si utilizza comunque silicio e quant'altro, quindi una tecnologia più semplice ma simile. Siamo comunque nel campo delle energie pulite e rinnovabili in un settore che avrà presumibilmente una prospettiva nel futuro. Ma con valori aggiunti? Con valori aggiunti molto più bassi. Allora, oggi si tratta di andare a Roma, rinegoziare un accordo di programma che consenta probabilmente all'azienda di utilizzare una parte di quelle risorse che erano destinate al modulo M6 per impiantare una nuova attività, che comunque, attenzione, è un'attività prelibata, perché noi in questo momento, per quello che so, siamo in concorrenza con la Lombardia e col Piemonte, che si stanno dando un grande affare. I presidenti della regione Lombardia e della regione Piemonte vanno lì a cercare le aziende e a dirgli noi vi offriamo questo, questo e quest'altro. Noi gli offriamo forse un po' meno, anche in termini di qualità della vita. Qualche volta la richiesta di posto di lavoro. Avevo in mente qualche altra domanda, però più dentro casa sua a questo punto, nel senso della politica nazionale e del ruolo dell'opposizione. Diamoci dei tempi più scattanti. La sensazione generale, fra l'altro abbastanza avallata dagli atteggiamenti di grande sicurezza del presidente Berlusconi, è che in qualche modo questo governo non abbia un'opposizione, o se abbia un'opposizione non ha un'opposizione che riesce a coinvolgere i cittadini. Per esempio, è abbastanza paradossale che di fronte ai grandi temi che il Parlamento dovrebbe affrontare, insomma il Parlamento viene bloccato dal tema giudice corte costituzionale e presidente della commissione di sorveglianza. Devo dire la verità, questo dilemma Pecorello-Orlando, mentre capisco, lo dico con una battuta, il problema da parte della Casa della Libertà, che dovendo sostituire il giudice Vaccarella, tende a sostituirlo con il giudice Pecorella, quindi restando almeno nell'ambito di un'agricoltura avanzata. Beh, io devo dire la verità, trovo abbastanza imbarazzante che la sinistra si trovi infognata in questo problema di una difesa a oltranza di un uomo come Orlando, imposto da Di Pietro, lo sappiamo tutti, e che però oggettivamente agli italiani non può mai apparire, per il suo pregresso, del quale lui può giustamente vantarsi in termini di coerenza, non può certamente vantarsi come uomo di garanzia. Vi sembra normale paralizzare l'attività dei gruppi parlamentari, e devo dire anche all'interno del vostro regolpamento, paralizzare l'attività del Parlamento su un tema del genere? Guardi, qui c'è un problema di fondo, che è un problema, se volete, di regole. La regola scritta o non scritta nel Parlamento italiano è che il Presidente della Commissione di Vigilanza sulla RAI sia un esponente dell'opposizione. E' sempre stato così nel nostro Paese, quando noi abbiamo governato il Presidente è stato votato dalla Commissione ma scelto dai nostri avversari. L'Andolfi nel caso specifico. Ma ne faccio un esempio, a un certo punto una volta hanno scelto Storace, ora non è che Storace è uno moderato, Storace è noto, è un uomo, a me sta anche simpatico. Sanguigno. L'ho avuto in Commissione affari costituzionali mentre ero Presidente nella scorsa legislatura, intelligente, ma certo è un uomo di parte e intanto è stato eletto Presidente. Questa volta toccava di eleggerlo al centro-sinistra, il centro-sinistra ha detto che questa indicazione la dava all'Italia dei Valori e quindi è stato espondato fuori il nome di Orlando. Francamente è incomprensibile che qualcuno abbia da ridire sulle scelte che vengono. Scusi senatore, però al contrario la Casa delle Libertà dice che al limite accettiamo pure un personaggio gravoso, diciamo così, come Orlando, ma allora concedeteci di eleggere Pecorella. Invece lì è avvenuta una cosa abbastanza strana, che mentre su Orlando è valso il suo ragionamento, per Pecorella ovviamente è spuntato il solito micro-enghippo giudiziario che coinvolge il 93% degli italiani. Sì, io devo dire che questa vicenda non mi appassiona, lo dico schiettamente, sono stati commessi su questa vicenda errori da tutte le parti, dal centro-destra quando ha cominciato a dire no a Orlando, ancora non si parlava della cosa così, era molto strumentale, l'abbiamo capitato. Esattamente, quindi insomma adesso io spero che nelle prossime ore questa vicenda si risolva perché, attenzione, qui dobbiamo affrontare i problemi seri ogni giorno. Insomma il problema dei paesi sono... Insomma sono ben alti, qui il problema fondamentale è che la gente non arriva a fine mese e c'è non solo la fascia della povertà, ma anche il ceto medio che oggi è in una condizione... E' meno attrezzato fra l'altro. E' meno attrezzato a difendersi in una condizione in cui ogni giorno è fuori, in cui cose che siano ieri sembravano normali e oggi non riesce a farle. Allora si tratta qui su questo di misurarci. Berlusconi in questo momento ha, come dire, le vele gonfiate... Spiegate con il vento a favore. Ha saputo cogliere questo momento, questo opportunale. Io dico anche che è molto più bravo di come non era nel 1994 e nel 2001, sicuramente. sulla comunicazione è un mago, ma attenzione, voi sapete che c'è un periodo che siamo alla luna di miele in ogni cosa, poi vengono i problemi veri e reali che i cittadini hanno e la gente giudicherà, giudicherà, e ascolti, alla fine giudicherà non sulla base di quelle che sono le sensazioni o la capacità di marketing o di vendita, sulla base di quella che è la condizione vera e reale in cui si troverà. Se staranno meglio... Mi tengo l'ultima battuta a questo punto. Devo dire che quando la notte si fa molto buia, non è tanto quello che si propone effettivamente, ma chi dà la speranza. La cosa che in qualche modo mi pare che gli italiani rimproverino in termini elettorali, voglio dire, alla coalizione della quale lei fa parte, sia il fatto di non riuscire a trasmettere un messaggio di cambiamento. È evidente quindi che al di là della bravura dell'onorevole Berlusconi, che mi pare in reipsa, insomma non è ancora finito il tempo delle riflessioni all'interno della sua coalizione. Io la ringrazio, spero di riaverla presto e di poter discutere finalmente di qualcosa in positivo se possibile. Anche perché adesso, alla fine, ha toccato un capitolo che merita un approfondamento. Beh, addirittura una trasmissione a sé. Assolutamente. Le riforme e l'atteggiamento del Partito del Partito del Partito del Partito. Ha ragione comunque. Grazie infinite e a presto. Buonasera.